mi chieni un'altra power station bellissima nera oppure nera e verde bella bellissima ma ora torniamo seri e parliamo di power station possible f2400 ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi voglio parlarvi di un'altra power station ma prima voglio chiarire un argomento cosa è una power station cosa serve a chi si rivolge allora la power station non è nient'altro che un gruppo elettrogeno però che non fa fumo che non fa rumore un gruppo elettrogeno che si può utilizzare ovunque che non richiede benzina e che richiede semplicemente di essere ricaricato in diverse modalità quindi ci dà le stesse opportunità che ci dà un gruppo elettrogeno semplicemente trasportare l'energia elettrica ma che in questo caso è in onda sinusole dalle pura quindi si può utilizzare anche per strumenti elettro medicali per tutti quegli strumenti che richiedono un'onda pulita 50 s 230 volte si può ricaricare con i pannelli solari si può ricaricare con la corrente di casa con l'accendi sigari dell'automobile sono diversi sistemi per ricaricarle non servono per poter risparmiare oddio sì in realtà si non nascono per questo ma si possono prestare per esempio se avete una baita avete un ambiente nel quale volete dare energia elettrica 230 volte con questo riuscite a farlo nel caso in cui non sia però da considerarsi l'unico sistema per poter alimentare un appartamento perché può farlo ma a 2048 watt ora 2400 watt quindi sicuramente non riesce ad alimentare un appartamento non riesce a farlo a lungo ma riesce a farlo nel caso in cui ci sia un blackout nel caso in cui appunto ci si vada sporadicamente si voglia utilizzare per determinate cose sempre entro questo range e a proposito di blackout questa in particolare come tante altre ultimamente è anche ups e il vantaggio di questa che interviene in soli 10 millisecondi praticamente nemmeno ve ne accorgete è rapidissima voi state alimentando una macchinario importante che deve lavorare senza interrompersi come potrebbe essere anche una stampante 3d che sta stampando un ciondolino ma con questo strumento con questo tipo di strumenti non essendoci l'interruzione quindi intervenendo in 10 millisecondi lo strumento continuerà a funzionare praticamente verrà alimentato da questo quindi sono gli strumenti validi che ci danno la possibilità di usufruirne diversi modi corrente continua corrente alternata e che sono facili da trasportare a differenza del gruppo elettrogeno che sarebbe veramente difficile da utilizzare dall'interno di una stanza dove c'è una persona che deve fare un aereo sol non c'è la corrente e deve utilizzare un gruppo elettrogeno cercate di immaginare la situazione con questo si può utilizzare per tutto scalda biberon anche cose di utilizzo semplice ma nelle quali ci sia però necessità di utilizzo immediato con questo si può fare come ps come alimentazione come alimentazione occasionale di un appartamento eccetera ora vi faccio vedere questo fossi bot f 2400 vediamo le sue caratteristiche ovviamente vi lascerò il link vi lascerò se riesco anche un codice di sconto perché già costa meno di 1000 euro quindi molto più conveniente rispetto a tanti altri che hanno le stesse caratteristiche e tra l'altro alcune caratteristiche pure curiose quindi cammino quadratura e vediamo e allora guardiamo come sempre la nostra power station da vicino quindi guardiamo tutti i dettagli come è fatta ciò che la compone allora innanzitutto abbiamo un display nella parte centrale come vedete molto riflettente anche c'è la plastica comunque il display filette tantissimo il tasto di accensione quindi accendiamola subito così vi faccio vedere pure quanto sia silenziosa si sente questo bip si avviano le ventole e poi immediatamente interrompono stesse ventole che poi interverranno nel caso in cui ci sia bisogno sul display abbiamo diverse informazioni quindi l'input in questo caso 0 la percentuale della batteria 85 per cento la durata ancora rimanente quindi non essendoci nulla collegato abbiamo 99 ore è la stessa cosa nel quanto riguarda l'uscita 0 watt questo serve per regolare invece la ricarica quindi la velocità di ricarica su 300 500 700 900 oppure 1100 watt ruotandolo infatti come vedete sul display cambierà questa informazione quindi possiamo decidere con quale velocità ricaricare le batterie all'interno con una durata che può arrivare fino ad un'ora e mezza due ore circa quindi molto veloce nella ricarica e sicuramente però se utilizziamo una ricarica più lenta aumenteremo la vita utile delle batterie che sono gli 3 o 4 quindi litio ferro fosfato batterie nuove che consentono fino a 3500 ricariche quindi più di dieci anni di utilizzo e da questo lato invece troviamo le uscite per quanto riguarda la corrente continua questa invece una luce led queste sono le uscite in corrente continua per quanto riguarda le prese usb vi faccio vedere come si accendono ovviamente abbiamo da questa parte anche le uscite in corrente alternata ma vi faccio vedere accendendo per esempio la corrente continua da questo lato si accende un'icona che ci indica le varie uscite quindi qua abbiamo l'uscita tipo accendisigari abbiamo diverse tipologie di uscite in corrente continua quindi in base alle nostre esigenze possiamo utilizzare una l'altra questa è una 12 volt del diciamo per poi invece arriviamo a 25 per qua invece abbiamo 3 e 3 ampere 12 volt ciascuno questa luce led una luce calda da piacevole effettivamente però spegniamola perché si riflette sulla lente e da questo lato ci sono diversi tipi di luminosità e da questo lato invece abbiamo l'uscita in corrente continua per quanto riguarda usb è quasi accende l'icona a forma di presa usb quindi abbiamo due prese usb di tipo a qui c'è il g quindi ricarica comunque rapida poi abbiamo due uscite anzi tre uscite power delivery usb tipo c da 20 watt è una invece da 100 watt quindi possiamo alimentare per esempio computer eccetera adesso spegniamo l'uscita in corrente continua come vedete si spengono le varie icone vari tipi di collegamenti che abbiamo e accendiamo la corrente alternata quindi da questo lato abbiamo un tastino premendolo si accenderà da questo lato il simbolo della corrente sinusoidale corrente sinusoidale pura e come vedete abbiamo tre prese di tipo suco questo invece è uno sportellino che troviamo sia a destra che a sinistra e serve per proteggere le ventole come vedete si rialza quindi non c'è il rischio che per errore lo poggiamo da qualche parte si chiude e poi l'aria non circoli però fate attenzione non dimenticate le chiuse quando l'ha utilizzata altrimenti si può sud riscaldare comunque per richiuderlo basta semplicemente premere da uno e dall'altro lato in questo modo è chiuso e per poterlo aprire basterà sollevarlo questo è il tastino per eventuali cortocircuiti e qua invece troviamo l'ingresso per poterlo ricaricare tramite l'alimentazione di casa e questo invece collegamento per eventualmente pannelli solari altri tipi di alimentazione in corrente continua sulla parte superiore invece troviamo una particolarità che non avevo mai visto in nessuna power station e che mi è piaciuta tantissimo quindi fra queste due impugnature molto robusta che ci permettono di sollevarla troviamo questo contenitore e all'interno ci sono tutti i cavi effettivamente di solito quando si trasportano proprio station non abbiamo dove mettere questi cavi quindi questa è stata davvero un'idea intelligente e troviamo il cavo per poterlo ricaricare tramite accendi sigari il cavo per poterlo ricaricare tramite i pannelli solari con il classico connettore mc4 questo è il connettore per poterlo collegare la presa che ho fatto vedere poco fa e questo è il classico cavo io ne ho utilizzato uno che già possedevo serve per ricaricarla con la corrente di casa quindi chiudiamo questo sportellino e vi faccio vedere qualche altro particolare quindi guardiamo anche l'etichetta nella parte posteriore e qua vediamo il nome del modello f 2400 2048 watt ore come vi dicevo la ricarica massimo da 1.100 watt la ricarica con i pannelli da 11,5 fino al massimo 50 volt massimo 500 watt queste cose rappresenta la modalità di utilizzo come ups e qua l'uscita quindi in corrente alternata 2.400 watt 220 240 volt 50 60 hertz e sotto l'icone delle varie certificazioni e allora mettiamola sotto carica e vediamo il display quindi inserisco il cavetto ok e sulla sinistra avremo quindi i watt in ingresso il tempo di stabilizzarsi un attimo poi ovviamente quando raggiungerà il livello massimo di carica nella maggior parte dei casi le power station si adattano e quindi anche se impostate una ricarica elevata solitamente ricaricano lentamente perché l'ultima fase di ricarica la fanno in modo molto più cauta quindi in questo caso io ho impostato 300 watt ipotizzo che anche aumentando mettendolo a 1100 in teoria non dovrebbe aumentare perché abbiamo già raggiunto una percentuale alta di ricarica e si si stabilizza 550 watt in ingresso perché effettivamente ormai la ricarica è abbastanza alta infatti mancano solo a 36 minuti per poter completare la ricarica riducendola invece in questo modo quindi impostando 300 watt come vedete siamo a 86 minuti sempre per il concetto che raggiungendo la parte finale della ricarica ne richiede di meno poco fa ho ricaricato per una fase 1100 watt è andata benissimo ho controllato le vere impostazioni le rispetta perfettamente adesso vediamolo in funzione e vediamo sia come si comporta per quanto riguarda l'alimentazione per esempio di questa pistola vera calda utilizzo ormai per le power station queste pistolina perché sono relativamente silenziosa mi permettono di farmi sentire ho impostato la ricarica al massimo quindi abbiamo 550 watt in uscita non abbiamo nulla la imposterò all'inizio al minimo e vediamo come si comporta sia l'input che l'output quindi avremo un uscita molto ridotta in questo caso 40 watt in uscita per quanto riguarda l'ingresso è aumentato leggermente per compensare andiamo allo step successivo e abbiamo 100 watt in uscita e anche l'entrata sta aumentando questa pistola arriva al massimo a 1800 watt quindi mettiamo il massimo ok abbiamo 1600 watt e come vedete abbiamo 2137 2100 watt in ingresso e 1500 in uscita ora facciamo una cosa mettiamo questa pistola qua togliamo l'alimentazione quindi simuliamo un blackout e vediamo come si comporta ok come vedete è aumentata l'uscita quindi siamo arrivati a 1800 praticamente ricolleghiamo ok non è semplicissimo ok si riduce anche il flusso di aria infatti anche i watt indicati sono circa 1600 quindi riesce a lavorare perfettamente ci garantisce un utilizzo continuo ok senza alcun tipo di interruzioni adesso proviamo però dato che abbiamo questo consumo di 1700 qualcosa quasi 1800 a collegare anche un'altra pistolina che dichiara 350 watt già c'è un caldo da a morire ma colleghiamo tutte queste pistoline sperando di non scioglierci qua dentro ok quindi vediamo a quanto arriviamo siamo a 2100 e continua ad andare senza nessun problema ma c'è un caldo assurdo come vedete quasi diventato incandescente quindi momentaneamente stacco ok stacchiamo e facciamo una prova per vedere fino a dove regge come picco allora collegato pure il compressore voglio vedere come si comporta utilizzando solamente le batterie interne quindi senza alimentazione come vedete staccata e vediamo accendiamo innanzitutto la pistolina poi quest'altra ok e siamo con poco fa a 2100 adesso accendiamo il compressore il compressore non è partito ok ed è andato in protezione come vedete lampeggia perché è arrivato un picco ovviamente improvviso un pochettino più elevato ok colleghiamo quindi solo il compressore e proviamo ad accenderlo ok mille watt sommati ai 2100 che ne avevamo poco fa effettivamente abbiamo chiesto un po troppo però come vedete è andato in protezione e adesso ci permette di lavorare senza nessun problema proviamo a collegare anche l'alimentazione in questo caso sperando di fare prima del compressore e adesso stacchiamo adesso voglio farvi vedere invece la luce e led che emette questa lampada una lampada un pannellino di circa 10 cm per due centimetri e mezzo guardiamo da questo lato mi sposto altrimenti faccio ombra come vedete oscuro la visuale è effettivamente che riesce a vedere questa è l'ombra del telefono con cui sto riprendendo riesce ad illuminare bene l'ambiente effettivamente quello che vedo dal display è proprio quello che riesco a vedere ad occhio nudo quindi riesce effettivamente a fare una bella luce diffusa anche sul tetto mi arriva proprio fino in alto come vedete perpendicolare praticamente alla luce emessa riesce ad illuminare anche lateralmente quindi una luce grandangolare guardate come riesce ad illuminare tutto in giro quindi anche da questo punto di vista in caso di blackout è molto utile perché ci dà la possibilità di illuminare per bene e allora adesso ho collegato questo piccolo ventilatore alla presa usb bellissimo ventilatore nel stile vintage che adoro visto che ho riscaldato l'ambiente con le pistolina d'aria calda ci sta quindi abbiamo un assorbimento in corrente continua in uscita per alimentare l'ipad quindi collegato a queste prese abbiamo collegato anche il ventilato di noi faccio vedere spegnendo le che si spegne il ventilatore e si spegne anche l'indicatore di ricarica quindi lo riaccendo l'ipad sta caricando essere acceso il ventilatore e sto caricando pure questa batteria ea lo so è una batteria top shock con il caricabatterie tecpo sono perfettamente compatibile se non lo sapevate ma diamo un'occhiata al sito del venditore quindi abbiamo la possibilità di trattare per avere supporto il sito che me l'ha inviato e jack mal scriviamo fossi bot e abbiamo quindi il nostro dispositivo al prezzo di 999.99 euro invece di 1799 euro spero che si veda bene cambiamo un poco inquadratura anche se in realtà vorrei provare a utilizzare la funzione di ups pure in questo caso quindi con dei dispositivi che non richiedono tantissimo quindi immaginiamo appunto un aerosol eccetera ok siamo a 1100 watt circa di ingresso proviamo a utilizzarlo quindi come ups stacchiamo la spina ok e va benissimo continua ad alimentare tutto va bene allora vediamo quindi le caratteristiche come vi dicevo 2048 watt ora potenza massima 2400 e le batterie lite più 4 con 3500 cicli di ricarica ricarica completa in circa un'ora e mezzo 500 watt al massimo per quanto riguarda l'ingresso quindi con i pannelli solari 13 porte in uscita che vi ho fatto vedere alcuni esempi di utilizzo poi qua abbiamo alcuni esempi per esempio un consumo di 10 watt ci permette 174 ore qua abbiamo 40 watt 43 ore ci fanno un esempio con un televisore che da 150 watt di assorbimento che può durare 11 ore un asciuga capelli da 1600 watt un'ora quindi diverse tipologie che sono tutti gli esempi in base alla durata e qua continua a ripetere le diverse modalità di ricarica con la differente durata perché si può ricaricare per esempio utilizzando sia i pannelli che la corrente con 1100 watt raggiungendo 1600 watt al massimo per caricare tutto in un'ora e mezza però se lo richiamo ricarichiamo per esempio con l'accendisigari quindi utilizzando il cavetto che vi ho fatto vedere poco fa impiegherà ben 17 ore ma questa è una ricarica di emergenza per quanto riguarda il picco quindi se colleghiamo qualcosa che richiede molto per esempio un utensile che si deve avviare può arrivare al massimo come picco a 4.600 watt il peso totale del prodotto quindi esclusa la confezione è di 22 kg ma la confezione che vi arriverà peserà 24 kg perché all'interno abbiamo tutto il cablaggio gli imballaggi eccetera ovviamente sullo stesso sito vendono altri tipi di power station diversi dispositivi ma anche della stessa post bot esiste un dispositivo molto più potente 3.600 questi i prezzi variano come vedete da 2003 fino a 3.800 in base poi se scegliete con 12 senza pannelli solari eccetera eccetera quindi come sito ci ho già collaborato è un sito affidabile come vedete c'è anche la chat immediata per poter avere assistenza chiedere informazioni potete anche contattarli tramite mail ma come vedete danno 24 mesi di garanzia pagamento sicuro supporto in italiano quindi un sito affidabile potete anche contattarlo per avere tutte le varie informazioni su vari dispositivi eccetera ma io con il mio impianto fotovoltaico pago di meno è ma me lo costruisco si è vero con un impianto fotovoltaico avrete più prestazioni non dico che pagherete di meno perché comunque l'impianto fotovoltaico fra inverter batterie d'accumulo i pannelli solari eccetera costa sicuramente non c'è il rumore stiamo ricaricando tranquillamente in un piccolo ambiente e se io fossi all'interno di una tenda potrei ricaricare una batteria in questo caso di un avvitatore ma potrebbe essere di un drone del mio computer eccetera potrei ricaricare dispositivi come tablet telefonini e tanto altro avere un piccolo televisore eccetera senza dare fastidio senza avvelenare nessuno senza avvelenarmi io senza avere il rumore dello scarico del gruppo elettrogeno e nel caso in cui ci sia bisogno può lavorare per mantenere qualcosa di acceso che non deve interrompersi in caso di blackout e mi posso trasportare l'energia dove voglio in modo pulito si può ricaricare con i pannelli solari solo con i mani di solari quindi evitando pure di inquinare ulteriormente l'ambiente anche se qualcuno dirà sì ma pannelli solari sono stati prodotti in fabbrica è vero però non è la stessa cosa di avviare in combinazione un gruppo elettrogeno oppure di ricaricarlo con la corrente di casa detto questo io spero che questo video vi sia piaciuto spero che vi sia piaciuto anche il nostro fossi bot f2400 ragazzi se vi è piaciuto andate a dare un'occhiata la polestation funziona bene ormai questi prodotti sono affidabili super testati vendutissimi più di quello che potete immaginare e quindi devo dare un'occhiata se vi serve acquistatelo io vi saluto vi do appuntamento a tutti i prossimi caricamenti ricordatevi di cliccare sul pollice analizzò cliccare anche sulla campanella cliccare sul tastino iscriviti e ci vediamo nei prossimi video ciao da Riccardo e a presto